Immagina che l'Italia entri in guerra con l'Europa o con la Nato, finisca gli uomini delle sue forze armate e si veda costretta ad arruolare civili italiani. E vedendo come stanno andando le cose oggi, è una possibilità lontana, ma comunque reale. Un bel giorno, noi bei maschietti dai 18 ai 45 anni, potremmo tornare a casa e trovare una bellissima letterina con sopra scritto Ehi Franco, l'Italia ha bisogno di te. E dato che, per arrivare a 46 anni, me ne mancano 21! Ma cosa fai? Non puoi dire di no! Ma dove vai? Ah, in montagna! Ma guarda che ti prenderebbero comunque! Verresti marchiato come disertore, passeresti un bruttissimo processo e verresti mandato comunque al fronte. Insomma, abbiamo capito che sarebbe impossibile restare a casa se godessimo dell'idoneità psicofisica per arruolarci. Ma nonostante ciò, cosa vorreste rispondere realmente all'Italia? Ed è questa la domanda che vi ho posto in questi giorni in due sondaggi, uno su YouTube e l'altro su Instagram. I quali vedremo più tardi. Premetto che il video è ispirato al video di Angelo Greco, in cui spiega chi verrebbe arruolato dalle forze armate italiane in caso di conflitto e di necessità. Quel video mi ha fatto molto riflettere e mi sono posto una domanda. Zande, ma tu ti arruoleresti? Il video di oggi si sofferma solo su questa domanda e non vuole di certo esprimere ideologie politiche e non vuole analizzare le situazioni belliche in giro per il mondo al giorno d'oggi. Poi sono anche convinto che la politica divida le persone e questa è l'ultima cosa che io voglio fare. Infatti lo scopo di questo video è riunire le persone e avvicinarle sotto un punto di vista prettamente umano. Beh, direi che dovrei rispondere anch'io a questa domanda e parto subito col dire che io ripudio la guerra sotto ogni sua forma e che no, non mi arruolerei. Però è anche giusto fare una piccola distinzione dove mi arruolerei e dove invece no. Non vestirei una divisa per difendere dei confini di una guerra che non mi appartiene, di una guerra scelta da altri, di una guerra dove io, e come tutti voi, come tutti noi liberi cittadini, non abbiamo fatto nulla perché iniziasse. Quindi se mi dicessero vai a combattere i vichinghi dall'altra parte del mondo, no. Ma se invece mi dicessero guarda che c'è un esercito di unni e galli pronto ad invadere l'Italia, a schiavizzare tutte le donne, a sterminare gli uomini, lì che cosa dovrei fare secondo voi? Ovviamente partirei non per difendere il paese, ma per difendere le persone che lo abitano. Soprattutto le persone che non si possono difendere da sole come vecchi e bambini, o più semplicemente per difendere le persone a cui voglio bene. Come ogni video che porto, anche l'argomento del video di oggi ha catturato totalmente la mia attenzione e il mio interesse. Come vi dicevo, proprio in questi giorni ho creato dei sondaggi su YouTube e su Instagram, proprio per sapere che cosa ne pensassero le persone che mi seguono. D'altronde il bello dei social è proprio poter scambiare infinite idee con creator e utenti. E ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e risposto a questi sondaggi. Se voi non l'avete ancora fatto, siete ancora in tempo per farlo nei commenti sotto a questo video. Ma comunque, perché c'è scritto che la domanda è rivolta solo a uomini dai 18 ai 45 anni? Beh, perché la legge italiana prevede proprio questo, che in caso di necessità verrebbero arruolati solo uomini dai 18 ai 45 anni di età. E le donne? Beh, di certo sono sicuro che le donne non starebbero a casa a grattarsi la uomini. La domanda che sta alla base di entrambi i sondaggi è sempre la stessa. Ovvero, se l'Italia entrasse in guerra e vi chiedesse di arruolarvi, nonostante non possiate dire di no, voi che cosa rispondereste? Su YouTube abbiamo totalizzato 119 voti, di cui l'11%, ovvero 13 voti, rispondono non lo so. Forse perché un po' come me magari hanno fatto una distinzione, un caso dove mi arruolerei e nell'altro invece no. Il 19%, ovvero 23 voti, rispondono sì, mi arruolerei. Mentre il 70%, ovvero 83 voti, dicono no. Su Instagram invece abbiamo raggiunto 18 voti totali, di cui il 6%, ovvero un voto, risponde sì. Il 16%, ovvero 3 voti, rispondono non lo so. Mentre il 78%, ovvero 14 voti, rispondono no. Se non l'aveste già fatto, mi invito a lasciare un bel follow su Instagram e iscrivervi al canale di YouTube. Link in descrizione del mio profilo Instagram. Come abbiamo visto, il 74% di media ha risposto no, segno lampante che moltissimi di noi non sono pronti e non vogliono una guerra. Una risposta in particolare di un ragazzo mi ha molto colpito e dice no, perché ho paura di uccidere e di essere ucciso. E sono totalmente d'accordo perché credo non ci sia sentimento più umano. Ricordate prima quando vi dicevo che mi sarei arruolato solo in caso in cui l'Italia venisse invasa? Ecco, vorrei spendere un po' di fiato proprio riguardo a questo punto. In primis lo farei per difendere i miei familiari e tutti gli italiani che appunto non possono difendersi. In secondo luogo, perché è l'Italia il paese in cui vorrei passare il resto della mia vita e infine perché non avrei altra scelta. È anche vero però che nessuno ormai invade un paese come durante le guerre napoleoniche o durante la prima guerra mondiale. Inoltre la tecnologia bellica è sempre la prima a progredire e chissà quante cose sono state inventate di cui noi ignoriamo totalmente l'esistenza. Adesso infatti le guerre si combattono con droni, robot, missili. E quindi a oggi c'è letteralmente da farsela sotto. E per concludere vi dico che non ho nessunissima voglia di indossare nuovamente il patello prima dei 95 anni. E qui credo che anche voi sarete tutti d'accordo. Inoltre in Europa in questi giorni abbiamo assistito a degli spettacoli tragicomici. Insomma, gente che dice che bisogna preparare i cittadini alla guerra oppure che per abbracciare la pace bisogna prepararsi alla guerra. Io ci ho riflettuto parecchio su queste due frasi e devo dire che mi fanno spavento. Signore e signori io vi vorrei invitare a riflettere e a condividere con noi qui sotto nei commenti che cosa suscitano in voi queste frasi. Vi chiedo inoltre di ridurre all'osso le vostre ideologie politiche perché questo video parlava semplicemente di un essere umano che pensa a cosa farebbe se l'Italia entrasse in guerra. Quindi seppegliamo le asce e comportiamoci per una volta da fratelli. Come esseri umani che hanno uno scopo comune, ovvero vivere in armonia, senza subire le sofferenze che hanno provato i nostri nonni durante la prima e seconda guerra mondiale. Si dice che la storia insegni, ma la sofferenza troppo spesso viene dimenticata. Signori, spero che questo video sicuramente diverso dal solito sia stato di vostro gradimento. Spero che siate riusciti a cogliere qualche spunto di riflessione e spero di poterne cogliere altrettanti anch'io qui sotto nei commenti. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, se siete d'accordo con quello che ho detto io, se siete totalmente in disaccordo o se condividete semplicemente qualcosa. Mi raccomando regà, lo scopo di questo video era unire, non era di certo dividere le persone. Quindi fate i bravi, io modererò tutti i commenti, li leggo tutti dal primo all'ultimo. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti belli miei. Grazie. Grazie. Grazie.